ciao sono il dottor max in questo video ti spiego come prevenire le infezioni batteriche la prevenzione delle infezioni batteriche è un aspetto importante per mantenere la salute generale le infezioni batteriche possono colpire diverse parti del corpo e possono variare dalla semplice infezione del tratto respiratorio superiore a condizioni più gravi come polmonite infezioni del tratto urinario o infezioni della pelle ecco alcune misure generali per prevenire le infezioni batteriche igiene delle mani lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi è uno dei modi più efficaci per prevenire la diffusione delle infezioni batteriche assicurati di lavare bene anche sotto le unghie tra le dita se non è disponibile acqua e sapone utilizza un disinfettante per le mani a base di alcol vaccinazioni ricevi le vaccinazioni raccomandate per proteggerti dalle infezioni batteriche ad esempio il vaccino antinfluenzale e il vaccino antipneumococcico sono utili per prevenire infezioni batteriche comuni coprimento della bocca e del naso copri bocca e naso con un fazzoletto di carta o il gommito quando tossisci o starnutisci per impedire la diffusione di goccioline di saliva che possono contenere batteri usa i fazzoletti monouso e gettali subito dopo l'uso evita il contatto ravvicinato con persone malate se qualcuno intorno a te è malato di un'infezione batterica cerca di mantenere una certa distanza e limitare il contatto diretto questo è particolarmente importante con infezioni come il raffreddore o l'influenza igiene alimentare segui le pratiche di sicurezza alimentare come il lavaggio delle mani prima di maneggiare cibi il corretto stoccaggio degli alimenti e la cottura completa degli alimenti per uccidere eventuali batteri presenti evita il cibo crudo poco cotto riduce il consumo di alimenti crudi o poco cotti come carne uova e frutti di mare che possono contenere batteri dannosi come salmonella o ecoli igiene personale mantieni una buona igiene personale come il lavaggio quotidiano la cura dei capelli e il mantenimento delle unghie pulite tagliate questo può ridurre il rischio di infezioni cutanee evita l'uso eccessivo di antibiotici l'uso eccessivo inappropriato di antibiotici può contribuire alla resistenza batterica prendi antibiotici solo quando sono prescritti da un medico e segui rigorosamente il corso prescritto evita luoghi sovraffollati in caso di epidemie in caso di epidemie di malattie batteriche contagiose come l'influenza evita luoghi affollati o prendi precauzioni extra per proteggerti mantenimento di un sistema immunitario sano mantieni uno stile di vita sano che include una dieta equilibrata esercizio fisico regolare riduzione dello stress e sonno sufficiente un sistema immunitario sano può aiutare il corpo a combattere le infezioni batteriche la prevenzione delle infezioni batteriche è un obiettivo importante per mantenere la salute personale e contribuire a prevenire la diffusione di infezioni nella comunità le misure supra elencate sono efficaci per ridurre il rischio di infezioni batteriche ma è importante adottare anche misure specifiche per prevenire le infezioni a seconda della situazione e delle circostanze individuali grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video che puoi commentare raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità buon proseguimento ci vediamo alla prossima domanda esaminata ciao ciao ciao